we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi porca miseria che grande update questa patch 8.40 di fortnite abbiamo visto la nuova modalità aviazione reale davvero veramente molto molto bella da giocare bella da giocare nuove skin ma soprattutto due importantissime modifiche alla mappa nel video di oggi ragazzi andremo appunto a parlare di un po di news nel dettaglio relative all'evento che sta per compiersi a sponde del saccheggio una delle due location che ha subito una trasmutazione davvero unica parleremo anche delle sfide della settimana numero 8 che arriveranno questo pomeriggio come tutti i giovedì e se avremo tempo vi voglio far vedere anche alcune nuove skin che sono state inserite e che verranno rilasciate nei prossimi giorni di questa settimana però voglio ringraziare prima tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando ciò pazzate di prepotenza nel negozio mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video o sulle mie live vi ricordo che fino al 26 aprile le live saranno la mattina 8 e mezza 11 e mezza 15 e 30 18 18 e 30 qualcosa del genere mi raccomando ma prima però è la domandina ve la devo fare ragazzi domandina i vostri commenti qua sotto è dai che ci tengo a leggerli mi raccomando ed è davvero una domanda molto personale ma qual è la tua variante preferita della skin supersonico la nuova skin leggendaria arrivata proprio contemporaneamente alla nuova modalità aviazione reale a me piace giallo giallo secondo me è stra bello ragazzi molto bello anche il base quello nero con la maschera col teschio ma quello giallo mi piace davvero un casino insomma ragazzi ditemi qual è la vostra versione preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciao alle bande e bando alle ciance andiamo subito a vedere una delle due grandi nuove modifiche alla mappa l'avete già capito il bunker segreto scoperto a parco pacifico siamo come vedete ragazzi nella casa più piccola del parco quella che rimane proprio in fondo tra le due case un po più grandi sotto alle scale c'è un bunker enorme ragazzi come state vedendo nelle immagini sullo sfondo di questa immagine principale la ci sono proprio le scale di cui vi parlavo e le stanze che compongono il bunker che si estende sotto al giardino sono davvero enormi rispetto alla grandezza della casa ovviamente la domanda è cavolo oramai sono passate due o tre season da quando è stato scoperto il bunker a burgo bislacco adesso ci hanno inserito il bunker sotto la casa di parco pacifico sono 20 anni che abbiamo i bunker uno nell'ex bosco blatterante e i due nuovi nel bioma della neve che cavolo vuol dire questa cosa c'è da dire che questo bunker è semplicemente una base segreta e non sembrerebbe essere collegata con nessun tunnel tunnel che invece dovrebbero collegare come erano le teorie i vari bunker in giro staremo ovviamente a vedere ragazzi se si svolgerà qualcosa di nuovo o se ci saranno dei cambiamenti ma passiamo invece all'altra grande modifica della mappa sto parlando ovviamente di sponde del saccheggio che come vi avevo anticipato nel video di ieri mattina ottiene una modifica assurda io non so cosa dirvi ragazzi allora l'unica cosa che mi viene in mente è che questo metallo questa cosa di metallo fra poco vi faccio vedere un'immagine davvero molto interessante questa è placca enorme di metallo è la stessa che è stata trovata negli scavi vicino a sponde del saccheggio insomma lo sapete gli ultimi scavi quelli che hanno fatto abbiamo trovato quella placca che non capivamo cosa fosse si pensava addirittura il collegamento sempre con i tunnel o forse la grotta del tesoro che è raffigurata nella schermata di caricamento della settimana numero 7 beh per adesso questa roba qua assurda ed enorme davvero una figata incredibile tra l'altro come vedete ci sono dei nuovi siti di appostamento chiamatelo un po' come volete per chi ha vissuto la season 4 gli stessi identici che erano stati costruiti a sprofondo stantio quando cadde il meteorite e tra l'altro come vedete ritornano che bello erano tanto che non le vedevamo le macchine della della federazione segreta chiamatela un po' come volete lo riconosciamo perché anche i canyon hanno quel simbolo giallo stesso simbolo presente anche nelle portiere delle macchine stesso simbolo che era presente anche quando diciamo che è tipo l'fbi ecco in modo che riusciamo a capirci quindi gente che investiga su quello che è stato trovato scavando appunto sotto a sponde del saccheggio qua abbiamo una visuale interessantissima ma forse ragazzi non tutti hanno visto questa cosa allora questa innanzitutto è una parte di codice del gioco di fortnite che ci va a confermare l'arrivo dell'evento leaky lake qualcosa leaky run leaky lake insomma ragazzi sembra che ci siano delle nuove rune in realtà ci sono ma non le ho messe in questo video perché è veramente troppa roba da dirvi voglio spezzettarvela piano piano come vedete in alto la seconda riga leaky rune allora io ve lo dico ragazzi ve la dico proprio papale dovrebbe tornare una sorta di isola come quella che avevamo visto nella season 5 solo che sarà ghiacciata non dico altro per il momento ci saranno quindi come vedete guardate come faccio a farvi vedere sopra dove c'è scritto p leaky finale e sotto c'è scritto snow base snow states quindi ragazzi si parla di neve ma invece guardate questa immagine con il drone si è riusciti ad andare sotto al livello della crosta terrestre chiamamola un pochettino così e come vedete ragazzi è assurdo la base è un enorme cilindro metallico è molto probabile che questo cilindro faccia qualche cosa o si si alzi anche lui o comunque succederà qualche cosa che ovviamente appena sapremo di più vi farò vedere tra l'altro il cilindro potrà probabilmente essere danneggiato ce lo dicono questi codici del gioco con la prima riga the mage divisor quindi potrebbe essere spaccato prenderà dei danni staremo a vedere ragazzi quando come perché in che modo ma andiamo avanti ed eccole finalmente le sfide che arriveranno questo pomeriggio e ragazzi ci sarà da lavorare perché le sfide sono semplici ma ce ne sono alcune molto interessanti ad esempio la numero 5 cercare i pezzi del puzzle sfida che già avevamo trovato avevamo fatto quando ancora c'era la casa in mezzo al lago non so chi si ricorda c'era già una sfida di trovare i pezzi del puzzle che saranno sotto i ponti e nelle caverne voi non preoccupatevi che troverete fra poche ore tutti i video relativi alle soluzioni abbiamo anche chiama il durburger con il grande telefono a ovest di lande letali oppure chiama pizza pit con il grande telefono a est a est a ovest a est del blocco insomma ragazzi abbiamo un sacco di sfidi interessanti che sicuramente completeremo la ricompensa eccolo qua schermata di caricamento che rappresenta anche la skin che finalmente oggi con le sfide sbloccheremo la skin rovina e ragazzi eccolo qua standardo segreto della settimana completando tutte le sfide troverete questo standardo non dimenticate che sul canale c'è il video che vi spiega l'esatta posizione beh ragazzi io non posso dirvi altro adesso perché il tempo è finito e le cose sarebbero ancora tantissime ma voglio ringraziarvi per aver guardato questo video e porca miseria sembra che finalmente all'ottava settimana della season 8 qualcosa stia per accadere non so anche ancora che cosa ma sarà davvero qualcosa che modificherà permanentemente la mappa che davvero ragazzi arrivati ad oggi ha subito dalla prima season tante di quelle modifiche veramente incredibili io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto codice creator xiodarone noi ci vediamo alle 8 e mezza in live ciao